L'incontro che si sta svolgendo qui nel Centro Sociale, nel Centro Culturale Migiusti di Sicilia è un appuntamento veramente importante. Prima di tutto è l'ultimo incontro della rassegna dedicata a Paolo Borsellino, un magistrato che sicuramente ha rappresentato tantissimo, non solo per l'Italia, ma per il nostro territorio, per la procura marsalese. E poi la tematica che stiamo affrontando, che veramente la reputo molto importante, è attuale, la riforma della giustizia. La riforma della giustizia che parte dal governo, parte dal Ministro Nordio, è indubbiamente molto dibattuta, ha delle peculiarità che vengono affrontate dal mondo della magistratura, dal mondo della società civile e che oggi, con l'intervento molto qualificato da parte del sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Marsala, la dottoressa Tredici, e con il Presidente della sezione penale del Tribunale di Marsala, il dottor Saladino, con i loro preziosi interventi, veramente sta impreziosendo un dibattito che anche nel nostro territorio è sentito e sicuramente può portare a delle conclusioni che avranno un'applicazione nel nostro contesto sociale, culturale e civico.